Attenti ai rifiuti, cazzoni! Dannazione! Non stavi scherzando. Abbastanza grande per migliaia di persone. 28.000, per essere precisi. Cosa mi dici dei rifiuti tossici? Uno scherto dei filtri gamma della città. Gli ufficiali li stipavano qui, mentre scavavano sotto le colline delle caverne per seperlirli. Hanno riempito di merda le colline. Già, beh, gli uccelli si ammalavano, morivano, buttavano e cose del genere. Così, quei coglioni rompipalle hanno deciso di ribellarsi e demolire i filtri gamma. Niente più filtri, niente più rifiuti. Dio protezione dalle tempeste. Qualcosa è rimasto qua sotto? Qualche ballerina n'infoma ne spogliare l'ista con la febbre già. Ma che cavolo ne so io? Non fate movimenti improvvisi. Questa merda pericolante probabilmente sta per... Cazzo! Questa sostanza... Altamente radioattiva! Volete alzare il curo o preparite stare qui a farmi il palco? Prottenete! Io respiro! Queste teste di cazzo hanno scelto il momento sbagliato per farsi vedere! Questa è la sua scelta! Che bello tornare nella merda. Non sto rilevando niente. Ah, merda! Mi serve una mano! Generale! Dei qua! Seguimi! Che bello! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sarrano! Non siete granché a fornire copertura. Comunque c'è una porta qui che credo... Merito! Voi due Samari portate il culo qua sotto! Abbiamo un problema! Ishi! C'è un'impalcatura dall'altra parte! Andiamo!